Buongiorno a tutti, oggi farò un video che non so neanche come chiamarlo e me racconto un po' la mia vita, probabilmente perché mi sento che nel giro di breve non ci sarò più ormai la situazione è ben delineata, le speranze non ce le ho più non ce le ho più perché il popolo italiano si è dimostrato merda, lo sapevo già che era un popolo merda perché da quando sono nato ne ho visti veramente troppe, veramente troppe un popolo che accetta tutti, anche i fatti di cronaca, gente che è a massa, altra gente, non succede niente questi qua, come si chiamano lì, quelli di Roma, vicino a Roma che hanno ammassato quel ragazzino oppure quella storia di due anni fa di quei nigeriani che fecero appesti, quella ragazza di vent'anni la fecero appesti, proprio appesti ormai non sa più cosa dire, vado niente, racconto un attimo la mia vita sperando quei 10-20 persone che mi guardino, di spingerle a reagire a questa cosa perché sembra una cazzata, ma se guardate che nella storia quando ci fu la dittatura cinese mi sembra nel 90-91, che c'è ancora, che ci fu quel ragazzo che si mise davanti al cararmato e dal di lì i cinesi ottenerono un pochino più di, non dico di democrazia, però più diritti e qui siamo nello stesso campo, cioè se noi o voi fate sempre le solite cose che vi dicono di fare e entri all'ospedale e ti controllano la temperatura, tu non dici niente mentre io ho cominciato, adesso ho cominciato a dirgli fatemelo qui la prossima volta gli dico, guarda io non mi controllo la temperatura perché sono sano porto la mascherina, quindi non c'è bisogno che mi misuri la temperatura perché io sto portando la mascherina, quindi in più rispetto al distanziamento perciò non rompete le scatole, dopo litigheremo, però bisogna cominciare da di lì perché se no non si va più avanti, ieri ho litigato col parrucchiere che rompeva il cazzo eravamo da soli, ma no, ti devi tenere la mascherina, come fai a tagliare i capelli che l'elastico, il laccio arriva qui? e lui me lo toccava, ho detto allora vedi, tu rispetti solo le regole che ti pare a te tu me l'hai toccato, se hai il coronavirus, adesso io domani mattina mi infetto dentro 10 giorni, mi sento male, mi porto di terapia intensiva dai, veramente, vabbè comunque inizio la mia storia, comunque chiaramente farò a spezzoni perché è molto lunga, allora io nasco tanti anni fa, non dico l'età, comunque 40 e più anni fa e nasco in una famiglia molto povera, nasco con un'invalidità molto grave anche se non sembra, è per questo che io sono grande perché nonostante questa invalidità, sono ancora vivo e riesco a fare anche dello sport in poche parole, ho una gama più corta di così, 4 cm e sempre su quella stessa gama ho piede con tre dita, mal formato, che sta così e inoltre avevo la scogliosi, poi chiaramente negli anni c'è anche da dire una cosa molto importante questo problema qui poi mi ha creato anche dei problemi della vita problemi che ho nella vita derivano tutto da quello perché se tu hai un'invalidità che non riesci a lavorare perché con questo problema io non riuscivo a lavorare e non mi davano il lavoro che riuscivo a fare poi ti distrugge tutta la vita perché non puoi fare nessun tipo di progetto senza il denaro non puoi avere anche le cose più semplici, un'auto, frequentare una ragazza tutte queste cose qua, andare in vacanza, comprare questo e quello comunque ho avuto questa invalidità grave che vedevo che camminavo male mi faceva sempre male la schiena e poi a quell'età lì, 5-6 anni, non è che lo capisci poi a 6 anni mi è successo un altro disgustio, mi è morto mio padre era un incidente strada, incidente, l'hanno investito dopo lì è andata un po' la colpa al mio babbo perché attraversava la strada però vi metto un po' di colpa, c'era anche mio babbo però intanto io sono rimasto orfo poi ho avuto un fratello che mi picchiava e quindi anche quella è una brutta cosa e picchiava anche mia mamma poi a 14 anni ancora con questo fratello in casa avevamo la casa di proprietà sono cominciato ad andare a lavorare e avevo appena subito un intervento chirurgico molto difficile per l'allungamento di questa gamba quindi mi avevano rotto tibia e perne da sveglio e mi avevano fissato questi fissatori esterni questi fissatori esterni dove ogni giorno cresceva un millimetro d'osso girando una chiave che dovevo andare tutti i giorni all'ospedale e c'era questo ortopedico che mi girava questa chiave e cresceva un millimetro d'osso dopo purtroppo lì era stato fatto un intervento sbagliato nel senso che non avevano considerato che io avevo una gamba un piede mal formato così e quindi loro con questo ferro volevano che io camminassi tutti i giorni perché l'osso cresceva e si saldava solo se camminavi ma io non riuscivo a camminare perché ogni volta che posavo il piede mi faceva male chiaramente i dottori pur di evitare di diciamo così di pagare danni dissero che era colpa mia eccetera eccetera poi mia mamma poverina era quello che era io avevo 14 anni e mi hanno rovinato anche lui subito dopo questo intervento che ho dovuto fare anche tre gessi che non erano in programma perché praticamente cosa è successo che non essendo ci si è camminato sopra non si è saldato l'osso ho dovuto fare tre gessi ho dovuto farne due da 40 giorni cioè 80 giorni di gesso sono tantissimi per saldare l'osso più l'anca poi mi era andata su così non veniva più giù ma ho dovuto fare un gesso da qua dalla gamba dall'anca fino a qua altri 40 giorni qui mi sono fatto 120 giorni di gesso e la gamba era ridotta come questo braccio io avevo le gambe molto muscolose poi la fisioterapia mi hanno fatto solo praticamente lo sboccaggio che la gamba era così ogni giorno mi dava uno scricolo così il terapista che mi faceva piangere e dopo 12-15 seduti mi ha sboccata però chiaramente il muscolo è rimasto più piccolo ma all'epoca mi hanno fatto nessun tipo di fisioterapia nel momento che io una parola con me che avevo finito sto il cuore mi chiamò una persona del mio quartiere che mi disse che mi poteva dare un lavoro e invece era praticamente lui mi voleva sfruttare ma l'ho fatto con un altro ragazzo del quartiere è un lavoro come tagliatore la maggior parte di voi non sa che le scarpe che vedete in produzione da donna io poi parlo dell'epoca adesso c'hanno i laser vengono tagliate a mano cioè con un modello di cartone che viene posato su una pelle e con un trincetto tutt'anni scarpe che costano 400 euro adesso e praticamente mi faceva fare sto lavoro io voglio dire che anche se avevo 14 anni dopo un'ora o un'ora e mezzo mi faceva amare la schiena non ce la facevo però l'ho fatto dopo un'ora e mezzo mi ha smesso perché avevo sempre dolore alla schiena poi mi sono arricchato un parco che all'epoca frequentavo la parrocchia che mi è servita per capire chi sono veramente il vaticano i paroci eccetera eccetera che avevano fondato una persona che andava alla messa una cooperativa sociale e missionaria così il nome era per non pagare le tasse che si doveva occupare si doveva occupare di inserimento di persone disabili o come me fisico o mentali infatti c'erano altri ragazzi delle case famiglie che erano un po' così e mi facevano andare in giro a raccogliere il ferro quindi stufe di ghisa che all'epoca c'erano a fine anni 80 e cartone ma quintali di cartone quindi dovevi piegare la schiena tantissime volte buttare dentro infatti io facevo più fatica a raccogliere il cartone che il vetro raccoglievo circa a mano 20 quintali al giorno di cartone sono tantissimi e quel lavoro lì l'ho fatto mi sembra due anni poi mi facevano caricare da solo i container di panni perché loro facevano la raccolta dei panni poi li vendevano a Prato dei sacchi così che pesavano circa 15 kg dovevo riempire tutto da solo a luglio o agosto quindi un caldo troce più il sole che rimbalzava dentro questi container di ferro è un delirio ho lavorato come un negro io da ragazza dopo i mesi sempre per il solito motivo anche per qualche litigio lì con questi ragazzi che lavoravano lì dentro che molti non erano normali era anche pericoloso perché c'era uno che ogni tanto alzava le mani una volta ha spaccato una bottiglia me la voleva infilarmi alla gola quindi ho detto io qui me ne vado e ha del fatto che io quei lavori lì non li potevo fare poi vado al collocamento obbligatorio che c'era e c'è ancora un ufficio che si dovrebbe occupare dei disabili di mandarli a lavorare lavori che riescono a fare quella volta c'era solo sta legge che diceva le aziende che hanno più di 35 dipendenti devono assumere i disabili però non è che diceva gli devi far fare il lavoro che riescono a fare no te le aziende che hanno più di 35 di nessuno tu devi fare quello che ti pare e infatti allora la lettera in un'azienda mi hanno fatto attaccare i polli a una catena che girava dove di attaccare 30 polli al minuto così e non sto scherzando in una cella che ci sono 5 gradi quindi dopo 5 minuti grondavi di sudore e ti arrivava il freddo e infatti l'ho fatto 3-4 mesi poi l'orario di lavoro dalle 5.50 alle 13 cioè una roba uscivi da lì che non capivi se eri più una persona o non so che cose vado ancora questo ufficio del collocamento obbligatorio mi mandano ancora nello stesso settore quindi a piccolo attaccare sui tacchini nell'altra azienda poiché era lontanissimo che io ci dovevo andare col motorino era a 22 km da casa mia col motorino che faceva 45 all'ora di inverno quindi sotto l'acqua al freddo una volta sono andato col ghiaccio sono anche caduto una roba allucinante e ho fatto un anno e ho smesso anche di ovviamente poi dopo vi racconterò l'altra mia vita diciamo così che siamo arrivati con questa prima parte fino ai 19 anni e già ne ho passate tante i 19 anni poi devono arrivare gli altri anni vi ringrazio che mi avete seguito iscrivetevi al canale se potete e speriamo che incominciate a protestare perché qui il loro obiettivo è quello lì vaccino microchip e moneta digitale all'interno del microchip loro vanno avanti se non mi fermate ciao